Armate di ascia, pistole e fucili, 5 persone hanno assaltato mercoledì nel tardo pomeriggio l'hotel a 5 stelle Ritz, nella centralissima Place Vendôme a Parigi. Con i volti coperti da passamontagna e a bordo di scooter, i rapinatori hanno preso d'assalto la gioielleria dell'hotel, rubando monili per 4 milioni e mezzo di euro, secondo una stima iniziale. Ero al bar dell'hotel a bere un cocktail. Abbiamo sentito degli spari. Ci hanno chiesto di non voltarci, ma noi l'abbiamo fatto. Ho visto degli uomini incappucciati con delle armi e a quel punto volevo solo andarmene da lì. E passando dal bar sono uscita, ha dichiarato una testimona oculare. Tre membri del commando sono stati fermati, gli altri due sono in fuga. Ho visto una delle persone arrestate entrare nella volante della polizia. Era vestito da imbianchino, ha spiegato un altro testimone. La sicurezza nel quartiere era stata rafforzata 4 anni fa, quando diversi gioielleri di lusso erano stati vittime di rapine brutali.